Perché è migliorata? Punto F. Attraverso Francesca R. A cura di Vubbi domanda Hai detto che lo strumento ha cambiato guida perché la struttura medianica è migliorata. Perché è migliorata? Per la malattia? Per le sue esperienze sentimentali? Perché ha vissuto? Perché? Perché? Guida. È migliorata perché è cambiata la composizione del corpo eterico dello strumento che le permette un'apertura completamente diversa e questo è permesso dal tipo di percorso che sta intraprendendo. Quando voi avete la possibilità di incontrare percorsi che favoriscono questa maggiore unione con il tutto Unione vera, non una riduzione all'interno di una setta religiosa o di un'aggregazione settaria un'apertura del corpo di luce che è presente nel nostro momento incarnativo questo cambia la struttura del corpo eterico e per noi è più semplice entrare. Faccio un esempio. È come se una chiave fosse sempre più corretta per inserirsi nella toppa Questo ci permette una maggiore disponibilità Certo, tutti gli altri aspetti che hai nominato non sono da sottovalutare perché fanno parte del percorso Ogni strumento, per essere sempre più predisposto ha bisogno di vivere esperienze di un certo tipo non sempre leggere Continua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti